Salve a tutti Sono appena tornato da un giro di negozi dovevo comprare delle cose qui a Lecce Ho notato qualcosa di cui vorrei parlarvi e qualcosa persiste da tanto tanto tempo La totale inciviltà di qualcuno nel parcheggiare la propria vettura, la propria macchina o il proprio veicolo Davanti agli scivoli appositamente costruiti e realizzati per i disabili Allora questo è sicuramente, si tratta di un gesto orribile Di un gesto del menefreghismo dei più biechi Perché a me o a qualche altro disabile non me ne fotte niente se tu devi parcheggiare così come viene viene Perché devi andarti a fare la chiavatina nel palazzo di fronte O perché hai la pisciata super urgente, imminente quindi devi scappare Non mi interessa Perché tu, tu come altri, di Lecce ma non solo di Lecce perché è un viziaccio tutto italiano Tu stai contribuendo allo scoraggiare la gente disabile a uscire di casa Diciamo che il disabile vedendo questa negligenza orripilante nei confronti degli altri Potrebbe pensare benissimo nel corso degli anni Io non esco più e mi sto rintanato dentro casa Come succedeva tanti e tanti e tanti decenni fa in cui nelle famiglie con parente disabile Si pensava bene di non farlo uscire da casa per non sfigurare nei confronti della benpensante opinione pubblica E' un appello a tutti i leccesi e a tutti gli italiani Ossia abbiate rispetto Rispetto non è una parola difficile Tre semplici sillabe Rispetto Salve a tutti